Meraviglioso pubblico di Vareggio, buona pelliccia a tutti! Mamma Franca, ci sono anche gli amici della Liguria, della Valle d'Aosta, dell'Orivo di Motrici, Val Promano e soprattutto i nostri amici di Momio Castello. Lo sanno, Robertino, lo sanno! Noi siamo un'istituzione, non siamo degli sprovveduti che fanno tutto un misto. Venimete a trovare Mamma Franca per tutto l'anno. Settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Febbraio, marzo, aprile, maggio. Insomma, quattro stagioni. Robertino, vendiamo pellicce, non pizze, Robertino. Ma certo, Megagalattica, mamma, è 40 anni che siamo sul mercato. Primo all'aperto e poi sotto le loghi accanto a Giuliano. Ma dillo che non è la verità! Meraviglioso pubblico di Vareggio, Mamma Franca, dà la tua pelle, la pelle di Roberta Pelle. E non è vero che ha rotto le palle, Robertino. Apriamo clienti in tutto il mondo! Di più, mamma, di più! C'è anche che è venuto dalle lontane galassie. Andiamo infellicciati, con trache, Aurelio. Serviamo i vipi dello spettacolo e della politica. Per i guanti di Gianni Morandi ci sono volute cento pelle di foca. Cose che non esistono, Roberto. Parlici te, complicità e perdona, Bertino. E Spadolini, Classi, De Michelis, l'han voluta di maiale. Cicciolina di serpente. E Lucio Dalla, mamma, il meraviglioso Lucio Dalla. E dalla nascita, Robertino, che c'è la nostra pelliccia. Ne è garbato così tanto che non se l'è più voluta levare. Ma vendiamo capi di animali stupendi, armadilli, rinoceronti, favolli, tarponi della Goellandia, Paine e Londra. Parigi, Parigi, perfino da Parigi ci vengono a trovare. È vero, ma stai zitto, è vero, è vero. Lo sanno, Robertino, lo sanno. E voi donne, ditele ai vostri mariti di venire oggi stesso, subito qui ora da noi a Viareggio, la meravigliosa Viareggio. La Versilia, mamma, la Versilia. I nostri amici di Corzani, Cogonbitelli, Bargecchia. Stiava, stiava. E piandi onca e fammi salutare anche gli amici della Liguria. La lezione al Terminetto, la migliarina, Robertino. Dove la metti la migliarina? Il meraviglioso novantesimo. I baffi di Gistino sono di Roberta Pelle, ragazzi. Noi abbiamo capi scelimi improvvisi e non di bassa macelleria, Robertino, ma poi diglielo a questo meraviglioso pubblico di Viareggio con che mamma Franca ha avuto successo. Ma col pelo, mamma, col pelo. Lo sanno, lo sanno. Tutti a Viareggio hanno la nostra pelliccia, la Zoria. Una storia di puzzola e di cartoni. E ti ricordi, elefantesca mamma? Ci siamo dovuti andare ben due volte. Ma perché, Robertino mio? Perché la prima volta era uscita di casa. Hai ragione, Robertino. E poi abbiamo il Bucci. Un meraviglioso spezzato di Bassotto. Il nostro conosciutissimo sindaco di Viareggio. Gingillà, la voluta di Gingillà. Serviamo anche lo 007T della Versilia, il Colsi. Di Volpe, la voluta di Volpe, tanto è furbo. L'assessore alla cultura Prisco. Di Miccio, se l'è meritata di Miccio, Robertino. Il conosciutissimo Mendella. Undici capi di Zebra ha comprato Robertino. Ma quali capi? Capocchioni, Robertino. Mamma, non mi ricordo cosa abbiamo dato al Maccioni. Una scimmia, ha preso una scimmia. E il nostro Pozzo, mamma, che delusione, che delusione. Con tutte le palanche che c'ha, se è presso solo un triangolino. Abbiamo comunque Moschino. Moschino l'unico ad avere un cappotto di Razzini e di Fascioni, Robertino. Il Beccaria. Verde, la voluta verde, un misto verde boraccina. Al meraviglioso Razzereschi e a Ennio Rossi abbiamo dovuto scoiare una mandria di bufari. Maledisti, che è stato solo, Robertino. Maledisti. Il nostro meraviglioso ex sindaco di Viareggio. E lui, il cappellino che voleva, ce lo siamo fatti arrivare dalla Russia. Lulla qui, Robertino. Lulla qui. La sua moglie, invece, l'ha fatto il visone. Di peri, Robertino. No, di schiaffi. L'ha fatto un viso fare una palla. E per finire siamo orgogliosi di avere tra i nostri clienti il dinzeo di Viareggio, il cavallerizzo Scarpellini. Ma che dici, Robertino? Lui è l'unico che non ha voluto, l'unico. Ma perché, meravigliosa mamma? Perché lui la pelle non la vuole da Roberta Pelle, ma la vuole dei Viareggini. È proprio vero, mamma. Sei l'istituzione della pelliccia. Ma lasciami salutare gli amici della Liguria. Ma sono i Triestini e la Banna Lucca. Da quando osserviamo i meravigliosi lucchesi nei tre magasetti di Roberta Pelle, non c'è più una pelliccia di pidocchio. Cosa è che non esiste. Cosa è che non esiste, Robertino. Ma vediamo sullo schermo le favolose pelli di Ligie, linciate. Sei linciate, picchiate e pestate come polpi. Venitemi a trovare. Noi di Vilvorno abbiamo il cuore buone. Si stanziamo tutto il giorno e poi si va a mangiare il cacciucchino, che lo è la realtà, Robertino. Lo è la realtà. Non fate oggi quello che potete fare domani. Parole sacrosante. Meglio un giorno da leoni che un ovo domani. Venite tutte dalle bambine di 15 anni alle donne molto più adulte per finire la sbis-bis-bis alle bisnonne. Venite con chi vi pare anche col ganso. Tanto per i mariti abbiamo stupende pellicce di cerco. Un saluto alla Liguria. Bertino, non ti puoi fissare sulla Liguria. C'è anche altri cittadini, Bertino, per piacere. Pensiamo all'umido della Darsena, al vento del 4-20, alla pioggia del Marco Polo. Ce n'è per tutti i gusti. Roberta, pelle a pelli fresche, a prezzi congelati. Purtroppo, stratosferica mamma, il nostro tempo a disposizione sta per finire. Ho solo un secondo per salutare gli amici della Liguria. A ridagli, Robertino. Mi raccomando, venite. E se mi volete vedere a 39 shopping, oppure telefonate, telefonate ai numeri. sotto pressione. E ricordate che anche le famose palle di pelle di Apollo, di Apelle, figlio di Apollo, erino di Roberta Pelle. Meraviglioso punto.